La produzione delle birre artigianali alnorese ha superato la fase hobbistica dei primi tempi. Oggi le aziende che producono questa bevanda di origine nordica, ma che ha tantissimi estimatori anche in Sardegna, sono presenti sul mercato con produzioni di grande qualità ed economicamente competitive. Per fare il punto sul comparto delle birre artigianali e offrire agli appassionati la possibilità di degustare le birre prodotte alnorese, l'Exme, in collaborazione con la Coldiretti di Nuoro Gliasta e il supporto logistico del birrificio Nora di Oliena, ha promosso l'Exme Beer Festival, una tre giorni dedicata sia alla degustazione delle birre accompagnate da prodotti del territorio proposti dalle aziende del mercato di campagna amica della Coldiretti e da altri produttori, ma anche con cibi preparati sul posto dai track food. L'evento è stato inaugurato ieri sera col taglio del nastro che ha dato via al festival. La Coldiretti ha promosso un convegno a cui hanno preso parte le autorità cittadine e regionali, col sindaco Andrea Sud in testa, organizzato dalla Coldiretti insieme alla Ore Porto Conte Ricerche, che ha acceso i riflettori sul settore delle birre artigianali, sia dal punto di vista della produzione, con particolare attenzione alla possibilità che a breve si possano utilizzare materie prime coltivate in Sardegna e nel norese, sia dal punto di vista della possibilità economica con diversi bandi regionali ed europei. All'interno dello spazio espositivo dell'Exme hanno allestito i propri stand di birrifici Nora, Marduk, Zemina, Trulla, Tolos, Nugoresa, Santo Giorgi, Truilada e Guerra d'Ora. All'esterno dell'Exme invece i visitatori hanno la possibilità di degustare le prelibattezze preparate dai track food, dalla carne alle sevadas, da accompagnare con un buon bicchiere di birra artigianale. Oggi e domani sono in programma due degustazioni guidate da esperti, mentre l'evento verrà chiuso domani con una serata musicale e con concerti, uno di musica swing e due di rock.